E benvenuti! Oggi siamo qua per un motivo un po' particolare, un po' fuori dagli obiettivi del canale, però mi piace farvi conoscere le mie opinioni su questo nuovo acquisto. Come potete vedere la batteria è al 18, ma per fortuna non è da stamattina, è da ieri, quindi come vedete dal titolo, quindi insomma non c'è da preoccuparsi, come vedete dal titolo appunto ho scelto di fare delle considerazioni, tre cose che mi sono piaciute e tre cose che non mi sono piaciute e poi vabbè brevi considerazioni, comunque la cosa principale è che il video sia breve. Allora partiamo subito dalle cose che appunto non mi sono piaciute. Per prima cosa mi viene un po' da ridere perché abbiamo parlato con i miei amici spesso, però il jack, il jack per le cuffie, non ce l'abbiamo più in questa nuova generazione di Galaxy S, negli S20 l'ultimo è stato l'S10, appunto non è presente il jack. Abbiamo un po' la luce, ma sfavore, forse è meglio così? Andiamo un po', ma sì dai forse è meglio. Sì, ok. Ok, appunto il jack, soprattutto, soprattutto carissima Samsung, perché non mi metti l'adattatore tipo C jack da 3,5 in confezione? Io me lo sono dovuto comprare ed è una cosa assolutamente insopportabile. Poi un'altra cosa, scusate ho dovuto un attimo rivolare le cose, un'altra cosa importante, cioè non importante, sono proprio cose che mi hanno, diciamo, dato fastidio e cose che mi hanno fatto entusiasmare, cioè mi hanno veramente fatto felice. Il sensore delle impronte, che vabbè, prima è andato al primo colpo, però ecco, vabbè, anche di nuovo il problema è che a volte, spesso, non so perché, al mattino mi dà dei problemi, mi... insomma non è esattamente efficientissimo. Adesso facciamo la prova. Ecco, funziona, ovviamente, in camera ovviamente deve funzionare. Fatto sta che comunque, non lo so, a volte quando non lo si usa un po', è un po' come se si addormentasse, non mi ha soddisfatto pienamente. Abbiamo il doppio tap, abbiamo il fatto che quando ce l'hai così, se tu lo tiri su, ciao, se tu lo tiri su, oddio, dovrebbe appunto attivarsi, esatto, quindi nessun problema. E vabbè, comunque non mi ha entusiasmato. È una cosa invece che appunto mi ha così lasciato un po', mi ha reso appunto un po' infastidito, cioè sì, mi ha reso infastidito, mi ha dato fastidio, è una specie di problema che però è una cosa che si riscontra, si va a riscontrare in praticamente tutti i nuovi smartphone, a meno forse, non lo so, da quello che ho visto in giro praticamente tutti. Hanno dei problemi di autofocus nelle macro, adesso ovviamente dal video non si riesce a notare la differenza magari con altre, però vedete che comunque il campo di fuoco è davvero limitato, questo qua è un avetto di gomma, ma le dimensioni sono quelle di nuovo per capirci, non l'ha messo fuoco tutto, cioè comunque non benissimo, insomma va bene l'effetto poca naturale, va bene tutto quello che volete, però c'è qualcosa che non va, ed è una cosa che riguarda tanti i sensori di questa generazione, ho visto anche il OnePlus 8 Pro e il P40 Pro in particolare, che è un sensore ancora più grande, non lo so, ha dei problemi. Bello eh? Vabbè, comunque, però appunto passiamo in fretta alle cose che mi sono piaciute, beh innanzitutto, cioè mi sembra evidente, lo schermo, lo schermo appena lo si comincia a usare, appena lo si impara a conoscere, è davvero qualcosa di fenomenale, perché, cioè, i 120Hz sono una droga, poi questa cosa delle gesture è tutto fluido, è tutto, in inglese lo definiscono burroso, no? Cioè è veramente fantastico, quindi lo schermo è una cosa di cui ti innamori, è vero che il 120Hz è quasi inutile, mangia la batteria da fare schifo, questo poi lo considereremo dopo, ma, insomma, va bene, forse è inutile, basterebbe il 90Hz, però c'è lo durismo da scatecnica, va bene, io ce l'ho il 120Hz e tu no, stai zitto, è così, cioè, questa è veramente una cosa molto poco tecnica, però voglio parlare di sensazioni. Vabbè, niente, a parte quella cosa delle macro, nel resto foto e video fanno semplicemente paura alla cosa dello zoom 3D, cioè dell'audio 3D con lo zoom, che, vabbè, non sto a spiegarvi io cos'è, ma comunque è una cosa che mi ha colpito parecchio, in buona sostanza, se tu hai un audio, hai qualcosa, una fonte sonora lontana, se tu zoom verso quella fonte sonora, nei video solo a 30fps, però, qualsiasi video ma a 30fps, praticamente come se quella fonte ti si avvicinasse, cioè è una cosa pazzesca. Il resto, appunto, video top, 4K e 60fps, gli 8K sono inutili, ma li hai tutto quello che vuoi, foto paurose di notte con 64MP a livello di dettaglio pazzesco e tutto, quindi video, foto, mi hanno veramente fatto piacere. E un'altra cosa, che adesso non saprei bene dove andare, proviamo internet, ok, abbiamo SDA, ecco, una cosa che mi ha entusiasmato è davvero che fa sentire la fascia premium, la fascia perlomeno top gamma, perché premium, teoricamente, vabbè, dovrebbero essere oltre mille euro, ma, cioè, sti cavoli, è un po' così, un po' vaga la cosa. Comunque, è un top di gamma, perché? Perché ha una vibrazione veramente pazzesca, cioè, sembra di usare i tasti, veramente, sembra di avere dei tasti, c'è poco da fare. La vibrazione è aptica, adesso non so se riuscirò a farvela sentire un attimo, lo appoggio poi al microfono, ma, per esempio, quando io vado nelle impostazioni, e io ho dei, adesso qua non li ho, ma, ad esempio, quando ho degli switch, ecco, tipo questo qua, sento proprio la, come se, è una vibrazione diversa da quella dei tasti, è una cosa che fa tipo tloc, tlac, una cosa, cioè, proprio, è pazzesco, cioè, è una cosa che veramente mi ha colpito. Appunto, proviamo a farla sentire, non so se si sentirà. Ecco, poi c'è il fatto che la barra spaziatrice, per esempio, è diversa dal resto dei tasti. Comunque, davvero, mi ha davvero colpito positivamente la vibrazione. Per concludere, niente, appunto, vabbè, always on, sempre molto interessante, funziona bene, disattivabile, tutto quello che volete. Volevo solo parlare brevemente della batteria. La batteria, alla fine, sì, in 120 Hz se la mangia, però, sì, adesso siamo in casa, quindi, cioè, nel senso, uno se lo gode anche, non è un grosso problema. Secondo me, col 4G, a partire dal mattino alle 8, 10, circa, dipende da quale si sveglia, che ora si va, insomma, all'università a lavorare, quello che è, forse col 4G, con le cammicelle, vari viaggi, eccetera, usandolo, senza morire, senza usandolo alla morte, alla sera si arriva, secondo me. Poi è tutto da provare. Con il risparmio energetico l'ho provato, è una cosa veramente fantastica, cioè, non finiva più di fare cose, ho fatto 17 ore di utilizzo, con 7 ore e un quarto di display acceso, cioè, è una cosa veramente fantastica, usandolo, 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 dalle 7 e mezza del mattino alle luna di notte, forse, non lo so, è una cosa del genere. Davvero, ovviamente in Wi-Fi, quindi, calcolando i consumi extra, comunque, con il risparmio, cioè, te la cavi proprio alla grandissima. Niente, questo è quello che volevo dire, facciamo questo video il più breve possibile, e che dire, niente, mi è piaciuto, credo che sia uno dei migliori rapporti qualità-prezzo presenti sul mercato di oggi, cioè, diciamo, in questo mese, mettiamo così, in questo periodo, e al prossimo video!